Ho deciso di accettare la sua offerta. Congratulazioni, certo che paga molto bassa. Oh, va bene, non mi serve molto denaro, basta che... Molto, molto bassa paga. Io la capisco, non c'è problema. Forse anche più bassa che tu puoi immaginare... Non mi importa, questa è la prima volta in vita mia che finalmente posso fare qualcosa che veramente amo. A me? Attenta tu, che amore non interferisce mai con tuo dovere. No, no, per me è sempre prima il dovere. Che modo migliore c'è di passare il resto della mia vita che aiutare in tutte quelle sue meravigliose illusioni. È vero, tutti amano le proprie illusioni. Amano? Hanno bisogno come di aria che respirano. all'inizio. Owocpe la sprazione? All'inizio. 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 Grazie a tutti.